Il MAF Marotta Acustica Festival ha promuovere musica acustica ma nel tempo ha modificato un po' il suo stile musicale e adesso prevede musica di diversi generi che vanno dal rock alla cumbia al jazz, hip hop, insomma ci sono diversi generi. Ci saranno due palchi, il palco pomeridiano sul quale si esibiranno band del posto quindi tra Senigaglia, Fano, Marotta, Pesaro e poi il palco serale invece che è un palco più grande dove ci saranno artisti da tutta Italia e anche artisti stranieri. Nello specifico c'è anche un gruppo argentino e un gruppo che viene dalla Francia.